buongiorno lunedì mica male non mi fido di chi parla male del lunedì lunedì è l'inizio abbiate sempre cura dei vostri inizi la prima idea un mattino i giovani che eravate anche fuori sta esplodendo l'estate è il suo inizio e quindi come andrà a finire è l'inizio buongiorno grazie